Ciao a tutti da Mario Carbone, oggi studieremo insieme Rosabella del Molise per Fisarmonica. Trovate il brano registrato sul canale, vi consiglio prima di ascoltarlo. Bene, questa trascrizione praticamente l'ho scritta all'ottava alta, quindi notato scritto ottava vicino alla chiave di violino, quindi è eseguita nel brano all'ottava acuta. La studieremo ora all'ottava, questa grave, in modo che sarà più semplice per voi memorizzarla, perché è una posizione che utilizzate di più e poi volendo, successivamente potete spostarla anche voi all'ottava acuta. E così lentamente ve la faccio ascoltare. Poi ripete la stessa cosa dall'inizio e non dobbiamo che la ripetiamo nuovamente, è chiaro? Quindi il ritmo che l'ho trascritto insomma in due mezzi, ma noi lo penseremo in quattro pulsazioni, quindi in quattro quarti. Quindi due movimenti di pausa e poi suoniamo le note per terze, quindi siamo col pollice sul C ma già allarghiamo di un tasto il 2, quindi sarà questo, eh? Poi 3 1, 4 e 2, che dura quasi due pulsazioni, una pulsazione e mezza. Poi 3 e pollice, tutte e due, tasto nero. Poi nuovamente 4 e 2 e giriamo sotto con 3 1. E poi 4 e 2, che dura due pulsazioni, per 5 volte. Nuovamente 1 e 2 e 2. Ripeto, quindi sarà questo, ta, ta, ta. Ora veloce questo, 3 e 2, 3 e 1, tasto nero e 4 e 2. Ci metto un segno sopra per farvi capire che sono veloci queste due, quindi fate questo esercizio. Per una mezz'oretta, quindi fa riferente a queste due note, ta-da, 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 fatele per una mezz'oretta, queste due, così memorizzate queste due note veloci, perché questa è una pulsazione e mezza, questo è il levare e poi il battere. Fate questo, vi faccio ascoltare col metronomo, così sarà più semplice. Il metronomo è 80, quindi 1, 2. Possiamo anche passare la velocità, la mettiamo a 75, va bene così. La parte questa l'abbiamo studiata ora, insomma, è importante questa introduzione, ta, ta, ta. Questa dura una pulsazione e mezza, quindi se fermatevi un po' di più, sentite due clic di metronomo, poi suonerete il levare queste note e velocemente imbattere. Queste durano 2, 2, 2 fino a qui. Siamo fermati qua, dopo mezz'ora, insomma, memorizzata o qualche giorno. Andiamo avanti. Abbiamo nuovamente 4 e 2 per 3 volte. Dura una pulsazione, poi 5 e 3, 4 e 2, 3 e 1. E giriamo con 4 e 2, andremo col 4 sul sol. Le eseguiremo per 5 volte ogni nota, diciamo, due o due pulsazioni. Metto il metronomo a 75 e andiamo da qua, quindi... Sarà così, quindi... E' abbastanza semplice, quindi, ecco qua. Abbiamo, come notati qua, 4 e 2 di qua, abbiamo ripreso fino a qui. Queste note durano 2, 2, 2, 2 per 5 volte. Fatto questo per mezz'ora, collegate le due righi, le due frasi. Andiamo avanti, ora siamo in questa posizione. Abbiamo il 4 e 2 che dura una pulsazione, poi 4 e 2, 4 e 2, 5 e 3, 4 e 2. Allargo il pollice di un tasto. E poi 3 e 1 che dura due pulsazioni. Lo eseguiremo per 5 volte. Vediamo questa frase sempre col metronomo. E la frase è questa che vi mostro ora. Da questo 4 e 2 che durano una pulsazione e una pulsazione, andando avanti di qua. E queste che durano 2 per 5 volte. Collegate il tutto senza andare di fretta, vediamo l'ultima frase. Quindi ben tornati dopo qualche giorno o settimana. Abbiamo questo, insomma. 3 e 1, 4 e 2, 5 e 3 due volte. 4 e 2, 3 e 1. Allargo il pollice di un tasto, 2 e 1. E durano, diciamo, nuove pulsazioni. 4 più 4, qui lo stop, quindi 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, lo stop. Quindi intendo tutti e due i bassi insieme, per capirci, quindi già con 1 minora. Vediamo così col metronomo 1, 2. 1, 2, 2, 4, 1, 2, 3, 4, lo stop. Poi pausa e da capo si riprende da capo, quindi è inutile ripetere nuovamente. Però memorizzate quest'ultima frase di qua, di qua fino a qui. Queste due note non sono nient'altro che le due note dell'inizio, queste due. Quindi eseguite queste due note, riprendete tutta la parte da capo, arrivate qui la seconda volta e fate questa, insomma, invece di eseguire questa parte rossa, fate questa blu. Chiaro? Spero sia tutto chiaro. Vediamo ora, facciamo da queste, anzi da queste due note qui, andiamo avanti qui e poi proseguiamo avanti. È il collegamento per capirci, quindi così. Ora vado all'ultimo rigo di questa pagina, allargo il pollice di un tasto e quindi è questo. Fatto questo giro col 3, quindi andremo col 3 sul B per capirci. Quindi due pulsazioni, poi due, uno, due, tre, quattro, poi pausa e ci fermiamo qui. Ovviamente potreste eseguirla tutta qui all'ottava acuta come scritta. Come scritta nel senso che questo 8 di prima che vi ho detto è scritta più bassa, ma solo per comodità di lettura pure, anche per chi legge le note. Vediamo questa frase col metronomo. Andremo ora, inutile collegarla da prima a qua, andremo direttamente qui da questa frase, con il metronomo. Farà un, due, quindi. Pausa. La parte è questa, fino alla V, quindi qui qua, fino qui, fino alla V, quindi questa pausa. Questa non l'abbiamo calcolata. Fatto questo, collegate il tutto e possiamo andare avanti questa parte A. Mettiamo i bassi dopo che l'avete memorizzata benissimo, chiaro? Già dall'iso possiamo mettere tutti e due i bassi insieme, così. Basso accordo di C. Ora andiamo con i bassi in G7, due bassi ogni nota. I bassi in C ora. Bassi in G7. Bassi in C. Quattro bassi, più altri quattro, più lo stop. Per stop intendiamo bassa accordo premuto insieme. Poi si eseggono queste due note. Si riprende da capo. Ripete la stessa cosa. Poi andiamo a questa parte successiva. Vi faccio sentire da queste quattro note per andare avanti, arrivo di sotto. Quindi bassi eravamo in G7 e così, quindi. I bassi ora in G7. La ripeto nuovamente, nominandovi anche i bassi. Eravamo in G7. I bassi ora vanno in G7. Ora G7. Ora in G7. Basso accordo e ci fermiamo qui. Va bene? Prima non avevo annunciato questo cambio di bassi in G7. Solo per questo. Bene, fatto questo, studiatela. Dopo un po' di tempo possiamo anche mettere qualche piccolo abbellimento, ma va bene già così. All'inizio già va bene questo. Possiamo fare... Questo col pollice premuto. Questo è da... Quindi facciamo quattro bassi. Un, due, tre, quattro... Un, tararara... Qui va bene. Va bene così. E poi andando avanti ci sta una terzina nell'ultimo rigo. Facciamo doppia acciacatura. Due, tre, due. E ci siamo. Mi riferisco a questo due. Ho messo il mordente sopra e mettiamo la doppia acciacatura. Andiamo avanti velocemente da queste due note della parte D per andare avanti. Quindi, chiaro, vediamo fino... Solo la parte B vedremo. Anche la C. Beh, ci regoliamo ora man mano. Quindi così, lentamente la faccio ascoltare. Quindi dal quarto di prima mi collego dalla conclusione della parte A. Questa è la parte B. Andiamo avanti con la parte C. Poi si aggancia. Nuovamente a questa parte B. Inutile che la ripetiamo. Poi si ripete da capo. Quindi dopo aver fatto quel quattro pausa della parte precedente. Ci sarà un movimento di pausa e andiamo con il pollice sul Do. Allargiamo il 2 di un tasto così. E' chiaro questo quindi. Poi 4, 2. 3 e 1. Tasto nero come l'inizio. Cambia solo la ritmica rispetto all'inizio. 3, 1. 4, 2. 5, 3. E abbiamo ora 4, 2 e il 2, 1 allargato di un tasto. Poi 4, 2. Questa è una sincope. Guardate il video dedicato alla sincope. Ci fermiamo qui. Col metronome è questo. Mettiamo a 70. Quindi 1, 2. Dal 4 di prima della frase precedente. Quindi pausa, pausa. E ecco qua. Abbiamo ripreso di qua da questo 2, 1. E questa battuta successiva fino a dove ci sta la V. La sincope ve l'ho cerchiato. Ho messo il cerchietto, va bene? Fatelo per mezz'ora. Questa è la sincope. Andiamo avanti ora velocemente. Dopo aver eseguito queste due note. Dobbiamo saltare praticamente col 2 sul Sol. Quindi è questo. Due pulsazioni, due pulsazioni. E giriamo la stessa sincope di prima. 4, 2. Allargiamo il pollice di un tasto. 4. Facciamo fino qui solo questa frase perché poi eservate la stessa cosa. Quindi dopo aver fatto. Saltiamo come ho detto prima su 2 sul Sol. Metto il metronomo. 1, 2. Sarà questo. Giro la sincope di prima. Ecco qua. Vi cerchio la sincope perché è uguale a prima. Sono le stesse note. Volete solo saltare qui col 2 sul Sol. Quindi questa nota è tanta. Questa sincope. Sono le stesse note di queste. Proprio uguale. Fate tutto il rigo. Andiamo avanti. Ma nuovamente lo stesso discorso di prima. Si salta col 2 sul Sol. Rigo successivo. E questo. 1, 2. Poi girate con 4 e 2. Quindi. E poi allargate il pollice di un tasto. Il 4 e 2 dura una pulsazione. E il 2 e 1 dura 3 più 4 più lo stop. 1, 2, 3 più 2, 2, 3, 4, stop. E' chiaro? Ecco qua. Vi cerchio queste note. Scrivo gira sopra. Gira. Qua si sarà più comodo. Ecco qua. La frase è questa. Quindi saltate come detto prima sub 2 sul Sol. 2 pulsazioni. 2 pulsazioni. Girate. 1 pulsazione. 3 più 4 più lo stop. Collegate il tutto con le due note di prima. Che erano queste. Le vedete qui. Nella parte precedente. E ci siamo. Questa è la parte B. Chiaro? Andiamo avanti ora con la parte C. Siamo in questa posizione. Avviciniamo. Insomma il terzo dito. No, non l'avviciniamo. Insomma andiamo in posizione. Ogni dito su un tasto. Quindi abbiamo ora il 3. Il 5. Il 4. Due pulsazioni. Poi due e quattro. Il 3. Due pulsazioni. Poi il 3. 5. Poi abbiamo un'altra sincope. Il 4. Il 2. Che dura due pulsazioni. Il pollice all'archiamo di un tasto. Avviciniamo il 2. E cambiamo col pollice. Dura 4 più 4 più lo stop. E abbiamo concluso questa parte. Col metronomo. 1. 2. 5. E poi ci fermiamo qui. La parte è questa. La frase è questa qui. Di qua. Fino qui. Va bene. si eseguono queste due note e si ripete, vedete, la parte che ho fatto il segno di qua poi si salta questa parte rossa e si fa questa blu queste due note, non c'è nient'altro le due note dell'inizio, si ripete tutto il brano da capo si fa tutto più volte e l'ultima volta come si fa per concluderlo da qua fino all'altro segno e da qua poi si fa il finale quindi arriviamo dopo queste due note si va direttamente al finale e vediamo il finale com'è dopo aver seguito queste due note giriamo sotto con 3-1 quindi qua e siamo già nel finale 3-1 4-2-1 3-2-1 4-2-2 arriviamo il pollice di un tasto 5-1 note per seste dura 4 più 4 più 8 poi 4-2-1 l'accordo di sol settima arriviamo il pollice di un tasto l'accordo di do va bene? e così quindi e il finale è questo fatelo per mezz'ora ma vi ricordo da collegare a questa a questa parte qui arrivate qui dopo queste due note vi collegate al finale altrimenti insomma non si capisce ecco qua fatto questo dobbiamo rimettere i bassi su questa parte riprendendo da questo 4 di prima va bene? della parte precedente 4 qui bassi sul do 5-5 ovviamente i bassi non li mettete subito dopo qualche settimana o mese che avete memorizzato la parte bassi in sol settima andiamo avanti bassi in do 5-5 e la sincope è un po' più complicato però insomma se lo studiate riuscite a farlo bassi in sol settima bassi in do 4 bassi in lo stop ora andiamo avanti senza avanti queste due note bassi in sol settima bassi in do bassi in sol settima bassi in sol settima bassi in sol settima e poi 2-1 do mi e si ripete questa parte l'ultima volta come ho detto prima si salta questa parte si fa questa e si riprende da casa vediamo di mettere qualche abbellimento abbellimento insomma il finale già l'abbiamo visto prima l'inizio di questa parte vediamo qui insomma quindi qua va bene già come è solo nella parte c metteremo qualche abbellimento è chiaro? che è così quindi qua facciamo la doppia acciacatura 4-5-4 quindi questa qua sul 3 la doppia acciacatura 3-4-3 poi e qua la doppia acciacatura sul 2 eseguiremo 2-4-2 sarà questo qua su una volta lunga possiamo fare questo questo è con i bassi mi sto riferendo a questo va bene e ci siamo poi tutti i collegamenti vediamo sul finale se possiamo aggiungere qualcosina e la si può aggiungere tipo così facciamo questo e poi solo questo quindi premiamo il 5 e premiamo anche 2-1 l'accordo di C insomma è una singola questa parte poi molto semplice va bene la singola è un po' complicata direttamente va bene con i bassi però faccio sentire lentamente solo il finale bassi in Sol 7 bene facendo questo dobbiamo cambiare i passi eh perché siamo andati in Fa qua dobbiamo mettere insomma i bassi di Fa e ritornare sul Do oppure fatela semplice come scritta va bene quindi verrebbe così bassi in Sol 7 apri commento bassi in Do e il Finale come è scritto bene anche questo i bassi non li ho scritti vedete prima questa versione semplice bene per oggi è tutto se vi è stato utile questo video mettete un Mi Piace condividetelo sui social se ci sarà interesse condivisione ci saranno anche altri video se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale mettete un Mi Piace solo non per me insomma per diffondere di più insomma questo video e dare la possibilità anche ad altri di memorizzare insomma imparare questo bar per oggi è tutto un saluto da Mario Carbone e alla prossima lezione ciao a tutti